Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Ragazzi ci troviamo in questa schermata perché abbiamo appena ricevuto un oggettino So che a tutti quanti voi sicuramente piacerà al 100% il suono che sentite non appena ricevete qualcosina del genere Raga, un bel hack già da ora se è così, vediamo un pochettino che cosa c'è Allora Il Triglia, grazie mille per questo splendido regalo dell'extraterrestre ragazzi Nuova emote che c'è oggi nello shop Un pure riferimento ad Howard l'alieno, un meme diffusissimo su youtube Che soprattutto mi avete fatto scoprire voi perché ragazzi sinceramente non lo conoscevo, mi dovete perdonare Quindi andiamo a cliccare sul negozio oggetti ragazzi, questo è lo shop di oggi Quindi abbiamo la skin Uragano che come vi avevo già detto era prevedibile che questo set sarebbe rimasto per ben 48 ore nello shop Comunque mi manca solamente lui per andare a completare il set ragazzi, quindi è una bellissima skin Come vi ho già detto ieri nel video Mattudino mi somiglia troppo alla skin del visitatore Ovvero lui, una versione molto rivisitata della skin stessa Un pochettino ragazzi dai si somigliano però non vorrei confondervi tutte quante le idee La cosa che ci lascia un po' perplessi però ragazzi è che se andiamo a cliccare sulla skin e vediamo la descrizione Ci sta scritto consumato dalla tempesta è tornato per vendicarsi Cosa vorrà dire questa descrizione raga? Sicuramente, e qui ci metto proprio la mano sul fuoco Questa è una di quelle skin che ha a che fare con la storyline di Fortnite Infatti se non lo sapeste ragazzi sappiate che la Epic ha comunicato Che con questa stagione 9 si andrà a chiudere tutta la storyline, quindi si andrà a concludere tutto quanto qui Quello che abbiamo vissuto è che stiamo ancora vivendo delle stagioni passate Dalla stagione 10 in poi ragazzi avremo una nuova storia, una nuova storyline E sono sicuro che questa skin ragazzi non è stata messa così tanto a caso ma fa parte proprio di questa storia della stagione 9 Secondo voi ragazzi vi faccio una domanda Questo personaggio chi è? Che cos'è? Potrebbe essere il visitatore in versione arrabbiata Potrebbe essere il cubo Kevin raga Cosa dite? In ogni caso la vado ad acquistare perché sono sicuro che questa è una di quelle skin che non tornerà mai più in gioco Quindi acquisto oggetti, let's go boys Uragano è all'interno del nostro armadietto Da notare anche la nuova feature A nulla è disponibile per qualche istante o finché non si esce da questa schermata Finalmente ragazzi la Epic Games comincia a pensare a queste cose Queste sono quelle piccole modifiche che mi fanno piacere ancora di più il tutto Raga vi ricordo come sempre che se volete supportare tutti questi video mattutini Tutte le sfide che porto sul canale assieme alle live serali Vi basterà cliccare qui in basso a destra su supporto in creatore E digitare al centro della schermata JKR Martex come codice Cliccate se cette e soprattutto aggiornatelo ogni 14 giorni Grazie a tutti coloro che lo faranno ragazzi Credetemi vi ringrazio in una maniera infinita perché mi state aiutando tantissimo Fulmine della Tempesta l'abbiamo già presentato ieri Diamo una riascoltata veloce Ci piace? E poi il deltaplano occhio del ciclone Bellissimo anche lui E' tornata la skin da 2000 V-Bucks Shogun Ragazzi quanto è possente lui Bellissima sia lei che il suo backpack Occhiatina straveloce anche al piccone Ascoltiamo il suono Mascellama da 800 V-Bucks Ok E poi il deltaplano Raga mi piace un sacco questo suono delle lame I livelli del pass battaglia ragazzi Togliete questi livelli del pass battaglia Occupano uno spazio inutile Vogliamo lo slot libero per una qualsiasi skin Comunque ragazzi sono curioso Voglio vedere un pochettino le movenze che ha Uragano Con la nuova emote extraterrestre Madonna che beat raga No ragazzi io sono a favore comunque che la Epic continui a fare questi beat Davvero GG a loro Ok che l'idea originale non provenga proprio da loro Però fanno davvero delle belle rivisitazioni su tutto quanto E' tornata Beardy Ragazzi non so quando è uscita Circa 14 giorni fa Non mi ricordo La nostra skin non comune da 800 V-Bucks Ghoul fist ad eccessione Poi abbiamo Psyon Skin da 1200 V-Bucks Si credeva che questa fosse una delle skin leggende lava all'inizio ragazzi Comunque non male fa parte del set terzo occhio Poi abbiamo Giro della Morte Un'altra mod da 500 V-Bucks Quanto mi piace questa Yes boy E ovviamente poi il piccone da 500 V-Bucks Pilota che si va ad associare alla skin Beardy Eccovelo qui E' proprio ASMR ragazzi E' super ASMR Ragazzi stavo dando un'occhiatina alle scie da poter associare alla skin che ho appena acquistato Allora Gliffy ci sta parecchio bene Anche lei poi non scherza Colpo di fulmine Oh mio dio Mi fate sapere qua sotto i tre commenti qual è secondo voi la migliore Questa Vabbè No 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 è questa È questa Anche se amo Gliffy Ma questa è over the top Comunque ragazzi per il momento posso dirvi che non ci sono informazioni per ciò che riguarda la creatura che si è spostata verso l'acqua Credo che avremo picco polare con queste orme giganti sulla sua sinistra per un bel po' Quindi ragazzi la situazione è un po' in stallo In ogni caso tra i file è stato trovato già un mini evento che potrebbe accadere non so quando Dove si vede una sorta di vortice all'interno dell'acqua Che molto probabilmente è generato dalla creatura stessa Comunque non appena avrò altre informazioni ragazzi non ci penserò due volte a portarvele qui sul canale Aspettatevi però aggiorni una nuova modalità a tempo tra quelle selezionabili La modalità di cui vi sto parlando si chiama Ord Rush E sarà una modalità in cui voi assieme a tutta la vostra squad Affronterete i soliti zombie che sono stati proposti e riproposti nelle ultime season Non so in che zona della mappa prenderà luogo questa modalità Perché in pratica sì ragazzi dovremmo avere a nostra disposizione l'intera mappa come su parco giochi O forse divisa in piccole zone Tra i file come possiamo vedere ci saranno sparsi per la mappa anche dei minicubi Che si ricollegano al 100% alle pietre ombra Sono un pochettino diversi rispetto al solito Sembrerebbero proprio intrappolati in qualche materia sconosciuta E la modalità stessa ha a che fare con un boss finale da affrontare Ad ogni modo ragazzi il tema principale è la tempesta Non a caso è stata implementata questa skin nello shop Non si sa però quale sarà il boss finale con cui dovremo combattere Potrebbe essere anche la skin che sto portando perché no ma sembrerebbe un po' troppo strano Credo che i giorni siano proprio contati non vedo l'ora di provarla assieme a tutti voi Torneranno le rune ci saranno le pietre ombra E quindi qui ci ricolleghiamo alla cosa che vi ho detto ad inizio video Ma non è che questo tizio è il cubo stesso Ovviamente assieme a questa mod usciranno tantissime altre sfide Che molto probabilmente vi porterò in un prossimo video In ogni caso raga fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate tutti voi di questa vicenda Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così fosse vi invito subito a lasciare un bel like Condividere il video con tutti i vostri amici E soprattutto se ancora non siete iscritti iscrivetevi Noi ci becchiamo molto molto presto Un salutone da Martex Ciao brothers